L'ultimo appuntamento della Cattedra del Dialogo ha chiuso il ciclo dei tre incontri dedicati al Concilio Vaticano II, il tema trattato, l'eredità del Concilio a 50 anni di distanza e le sfide dell'etica contemporanea. I relatori Carlo Morali, il teologo, e Sergio Lariccia dell'Università La Sapienza di Roma si sono soffermati sui rapporti della Chiesa col mondo di oggi. Carlo Molari, partendo dalla Gaudium Espes, ha precisato il richiamo insistente del Concilio di interpretare il segno dei tempi per un aggiornamento della dottrina della Chiesa. Il professor Lariccia ha espresso un commento decisamente positivo sul Vaticano II, ma ha stigmatizzato purtroppo la non realizzazione pratica dei principi in esso espressi. Ha poi sottolineato la necessità della giustizia e del rispetto delle libertà e dei diritti della società civile, anche non credente.